Grazie a tutti. Il libro che recentemente è stato edito da Rubettino sui brezzi perché i brezzi sono questa popolazione antica della Calabria che ha occupato gran parte della storia del IV del III secolo a.C. in polemica e in contrapposizione sia con le città greche della cossa Turi, Crotone, Reggio e anche del terreno come Vibo Valencia per esempio e poi i romani perché durante la seconda guerra punica i brezzi si allearono con Annibale e Cartaginesi per combattere i romani fino a che con la sconfitta di Annibale i brezzi furono completamente schiacciati e non ebbero più storie. Abbiamo, io credo in questa maniera, reso uno spessore maggiore alla storia antica. Non è soltanto la rappresentazione della cultura greca, della cultura della Magna Grecia o della potenza romana ma anche la rappresentazione di una resistenza, di un'alternativa, di una contrapposizione che come tutte quante le differenze dà spessore alla realtà. Grazie a tutti.